Giorgia, legge a nonna. Se non capisci qualche parola, chiede a me che puoi telefonare a mamma che lo chiede a papà. Quello stesso pomeriggio, subito dopo so, mentre gli zii prendevano il caffè ed Elisa aiutava la nonna a sparecchiare, la tata osservò. Che strano, mi sembra di sentir piangere un bambino nelle nostre scale. Nonna, che cos'è un amante? Un... Un'amante. Un'amante? Un'amante... Due... Insomma, che non trovo le parole. Madone! Che cos' mi hai fatto ricordare? Madone! Madone! Ludovica! 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 Grazie.